sono le 9 e 24 di sera ho avuto una giornata molto lunga e faticosa sono tornato a casa mi son mangiato le uova vai mangia vai mi son dimenticato che era piccante ombre ma sto piangendo ma l'hai vomitata e ho ancora una fame della madonna quindi cosa ho pensato io perché non faccio un video nel quale mi mangio un sacco di pollo ho ordinato un pollo alla braccia con patate fritte non voglio che questo canale diventi un canale nel quale mangio un sacco di cose sempre però mi piace un sacco farlo ho ordinato un pollo mangiamolo 3 2 1 via ciao ti starei chiedendo ma perché perché sto guardando questo perché lui sta mangiando un pollo intero beh non lo so non lo sai non sappiamo niente che non sappiamo niente boh diciamo che ho finito cioè non mi sto tirando indietro naturalmente la challenger al pollo completato questo video non ha senso come tutti gli altri ma alla fine che cos'è che ha senso eh? cosa ha senso? spero di avervi fatto un pollo e ci vediamo presto